Sono passati 93 giorni da Genoa a Venezia e i Rosso Blu per la prima volta tornano al Ferraris e trovano ad accoglierli gli stessi tifosi, quelli che si sono abbonati in C1 in 15.000, quelli che noi ci siamo sempre, quelli che l'importante sono 11 maglie Rosso Blu e un pallone. E per tutti coloro che sono a Marassia è un'emozione particolare ritornare allo stadio dopo un'estate mai vista prima. Abbiamo la stessa voglia che avremmo avuto se fosse stata la Serie A, siamo tutta la famiglia come vedete, per noi non è importante contro chi giochiamo, basta che ci sia il Genoa va bene tutto, è chiaro che ci sarebbe piaciuto giocare contro squadre più bella giornata della Real Fermana o altro. Io franca metto un senso di tristezza, per come è andata, per come potrebbe ancora andare, ti fanno fare 50 km per andare a prendere il biglietto, qui sembra che stiamo diventando le marionette del calcio italiano, tristezza, per favore vai via, e con il calcio giocato torna anche l'ironia e la voglia di fare festa, ma le emozioni provate per il ritorno a casa sono state quelle sì, uguali per tutti. È una sensazione molto strana, quasi spiegabile, quindi è mista a gioia, amarezza, e di ritornare a casa tra la tua gente, è stato un segnale molto forte, positivo e emozionante, è ovvio che poi rimane tanta amarezza per non aver potuto dare a questa gente che merita veramente altre categorie, però insomma questo è il calcio e questo ci prendiamo. In B, in C, in D, in Z, non ci sono problemi, per noi già non ho fede e ci saremo in qualunque situazione.